Un sistema proporzionale e questo è in tutti i paesi, noi siamo abituati, siamo stati abituati negli ultimi anni a avere un sistema uninominale, maggioritario, cose un pochino varie, anche proporzionale, proporzionale vuol dire che i seggi vengono assegnati in base alla percentuale di voti ottenuta da ciascone delle liste che si presenteranno alla competizione.